Siamo alla seconda pausa di Varese Caldaro, 4-2 per il Caldaro, abbiamo il piacere questa sera di avere anche la voce di due tifosi del Caldaro che si presentano. Sì, siamo qua e speriamo che vieni. Dici anche il tuo nome con noi. Sono Vincolo Tobias, del Caldaro, e Gabriele Pelone. Chiediamo innanzitutto, insomma, quanto ci avete messo per venire, quante ore ci avete messo per venire, ed è la prima volta che venite a Varese. Sì, per me è la prima volta, abbiamo messo oggi 4 o qualcosa così, e lui è qua la terza volta. Sì, sempre veniamo qua e sappiamo che vincono. Già una volta avete vinto, questa sera siete molto vicini a tentare l'esploit per cercare di avere il match point per giovedì sera a casa vostra. Sì, giovedì sera vinciamo, sì. Qual è il vostro, il tuo giocatore preferito? Il mio giocatore preferito è il Bombolone, 67. Ma voi da quanto tempo seguite il Caldaro? Io già avevo 4 anni, già 11 anni adesso. Hai fatto qualche esperienza a livello di hockey oppure per te? Io ho sempre giocato hockey, dal quarto anno del mio. Ma dalle vostre parti avete più, vi capita di andare a seguire magari, non so, il Bolzano, i Nebel, magari il Merano, oppure vi accontentate solo di seguire il Caldaro e il Renone? Renone. Come vi sembra il livello di questo campionato qua, in confronto magari a Renone o altri campionati? Sì, queste due squadre il livello è molto bene, tra gli altri un po' più sotto. Come finirà la partita? Siamo 4 a 2 per voi, come si terminerà il terzo tempo? 7 a 2 per Caldaro. No, 6 a 2 per Caldaro. Vi lasciamo andare a gustarvi il terzo tempo e in bocca al lupo, magari ci vedremo giovedì sera a Caldaro. Ciao, grazie. Ciao, grazie.